In tre inverni ha portato via almeno 20 metri di terreno e sta praticamente arrivando all'argine che poi quando è arrivato lì entra nel lago. Metri e metri di terreno mangiati dal fiume Metauro, campi invasi dall'acqua e decine di segnalazioni andate a vuoto per anni. Questo fu lo scenario che si presentò davanti ai nostri occhi nel dicembre 2014 quando signor Pierpaoli, proprietario del Klebaus ex lago Solazzi, ci contattò per lanciare l'allarme. Qui nessuno sente, nessuno viene, sono venuti, hanno detto faremo, faremo, ma è passato un anno, qui non si è più visto nessuno, si è vista la piena che porta via la terra, sta sgrottando. E questa fu soltanto la prima di una serie di interviste realizzate da Fano TV. Infatti tornammo nel 2015, poi nel 2016 dove la situazione peggiorò notevolmente senza alcuna risposta concreta dalle istituzioni e da ultimo oggi. Ma le cose sono finalmente cambiate. Davanti alla recinzione infatti abbiamo trovato tre ruspe e un cartello con su scritto, lavori di consolidamento della sponda sinistra del fiume commissionati dalla Regione Marche con inizio a fine luglio e la fine prevista per metà ottobre 2019. L'importo complessivo dell'intervento è di oltre 90.000 euro. Una notizia che ha riempito di gioia Nino Pierpaoli, che ringrazia la Regione, il geometra Petrillo e la nostra emittente televisiva per aver portato avanti la sua battaglia. Dopo tanti anni che abbiamo fatto sopralluoghi e via discorrendo finalmente siamo alla fine del problema con soddisfazione di tutti. Fino ad oggi quali sono stati i lavori eseguiti? I lavori eseguiti sono stati la cosa più importante che hanno tolto il tappo nel mezzo del fiume, chiamiamolo tappo io, l'acqua va finalmente giù dritta per il letto del fiume e non va più destra-sinistra come ha fatto precedentemente che mi ha danneggiato e portato via dei terreni. Adesso il tappo è stato fatto, adesso c'è altre cose da fare. Vediamo anche altre scogliere, quelle che però sono state sistemate da autostrade. Sì, quelle scogliere che vediamo laggiù vicino all'autostrada, lei ha messa l'autostrada per precauzione, per loro ovviamente, perché già l'acqua aveva cominciato lì a erodere e quindi praticamente hanno tamponato. Per ora va bene così. Ricordiamo le ultime interviste che abbiamo realizzato, possiamo dire che erano anche abbastanza pericolose, vedevamo l'acqua arrivare indietro di lei. Effettivamente, 4-5 anni fa, quando avete fatto il primo sopralluogo, però dopo, sai, in Italia un po' le lungaggini, la burocrazia, le scartofie che ci hanno e scorrendo, andrà a buon fine questo lavoro importante che ci tenevamo tutti e quindi questo problema quanto prima sarà risolto. Grazie a tutti.